E dunque Roberto Albergoni, il tecnico che ha redatto il dossier della candidatura e il direttore generale della Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Ancora video interventi. Abbiamo costituito la Fondazione di Agrigento 25, un GDA corposo, ricco di competenze, ricco di professionisti. Il legale rappresentante è il professore Giacomo Minio, qui accanto a me, che farà quindi il presidente. Il vicepresidente sarà l'avvocatessa Vincenza Graziano. Grazie sindaco, abbiamo già svolto il primo consiglio di amministrazione, quindi senza lasciare correre tempi ulteriori, poiché era anche necessario avviare i lavori. Il consiglio è composto da professionisti di alto livello, di altissimo profilo e nell'ambito dello stesso primo consiglio si è proceduto alla nomina del direttore generale della Fondazione, che è stata individuata come figura nel dottor Roberto Albergoni, il quale ha redatto proprio il dossier per Agrigento Capitale della Cultura. Desidero ringraziare anzitutto il sindaco di Agrigento per la fiducia in questo lungo percorso che ha portato alla creazione della Fondazione Agrigento 2025, il presidente della Fondazione, il professor Minio, e tutti i consiglieri che mi hanno accordato questa fiducia. è un incarico che assumo con grande senso di responsabilità e sono certo che tutto il lavoro che già fino ad oggi è stato svolto potrà adesso confluire all'interno della Fondazione e con la presidenza del professor Minio e il supporto di tutti i consiglieri svolgeremo un ottimo lavoro per la città. Grazie a tutti i consiglieri svolgeremo un ottimo lavoro per la città.